In questo video faremo delle riflessioni nell'ambito della didattica 2.0 su un tema molto importante, cioè quello della valutazione autentica. Innanzitutto vediamo in due parole cosa sia. La valutazione autentica è una valutazione diversa da quella tradizionale che, detto in maniera molto semplice, tende a valutare non soltanto la prova, ma tutto il risultato che ci porta a quella prova, tutto il processo che porta alla prestazione. Quindi tenta di recuperare la complessità di una prestazione, non soltanto la performance che normalmente i nostri ragazzi sviluppano nel giorno della prova. La valutazione tradizionale infatti tende a valutare nozioni, competenze anche a volte, soprattutto risultati che si concretizzano per esempio nel giorno della prova, nelle ore della prova. La valutazione autentica invece tenta di fare un passo in avanti, tenta di essere più ampia di quella tradizionale e valuta tutto ciò che noi sappiamo fare, che gli studenti sanno fare, con ciò che sanno. Quindi non solo ciò che sanno, non pesa soltanto le conoscenze, ma vede anche come quelle conoscenze si trasformano in modelli che possono essere adoperati in contesti non necessariamente scolastici. Quindi effetto anche una riflessione importante sulla modellizzazione del sapere, su quanto e come i ragazzi riescano a utilizzare i saperi che apprendono a scuola in contesti il più possibile reali. E' indubbio che questa forma di valutazione nasce anche in modo piuttosto polemico nei confronti alla valutazione tradizionale, della docimologia tradizionale che molto spesso è schiacciata sulla singola prestazione, sulla singola nozione. In qualche modo la valutazione autentica tenta di ribaltare un tipico approccio della valutazione tradizionale. Infatti la valutazione tradizionale valuta ciò che l'alunno ha studiato, ciò che l'alunno sa o dovrebbe sapere il giorno della prova. Ed è spesso, piuttosto spesso, orientata a compiti non reali, che vuol dire, cioè a prove che al di fuori del mondo della scuola difficilmente gli alunni troveranno. Quindi sono prove, in un certo senso, scolastiche, nel senso tecnico del termine, prove che hanno un senso solo nel momento della prova. Difficilmente possono essere riusate in ambiti differenti dalla prova medesima. La valutazione tradizionale in genere si muove sullo sviluppo delle conoscenze, delle competenze, spesso, e delle abilità. Anche se soprattutto enfatizza questi due momenti. Pensiamo a un compito di matematica, un compito di greco, un compito di italiano. Si apprendono dei concetti e il giorno della prova qui si dimostra che quei concetti sono stati appresi. Quindi valuta l'abilità, per esempio, la conoscenza, qualche volta anche la competenza. La valutazione tradizionale vorrebbe, come ogni valutazione, in fondo, raggiungere la chimera dell'oggettività. Per esempio, dando a tutti gli studenti lo stesso identico compito. Che è un aspetto, se vogliamo, anche discutibile dell'approccio docimologico tradizionale. Dando a tutti lo stesso tempo per farlo, ad esempio. La valutazione tradizionale poi si basa sul cosiddetto programma, il curriculum, che viene sviluppato in classe. Cioè, in genere, in classe si studia un argomento, ci si esercita su quell'argomento, e la valutazione tradizionale valuta quanto siamo diventati abili o capaci, o talvolta competenti, su quell'argomento. Le prove, quindi, di una valutazione tradizionale sono, in genere, questa è una semplificazione, ma credo che colga più volte nel segno, sono decise integralmente dal docente, vale a dire i ragazzi non contribuiscono alla strutturazione della prova. Anzi, questo aspetto, forse, ad alcuni può sembrare persino assurdo, ma questo effettivamente non accade nella valutazione tradizionale. Le prove sono svolte in genere in un solo momento, che è il giorno della prova, che è una determinata data, una determinata ora, e un determinato tempo a disposizione. Sono segrete, tra virgolette, nel senso che il docente non anticipa, per lo più, quali saranno. Anche questo, a molti può sembrare assurdo farlo. In realtà, nella valutazione autentica, è qualcosa, come vedremo, che è tranquillamente accessibile. E poi, e questo è un aspetto importante, sono individuali. Cioè, i ragazzi le svolgono da soli. E guai a chi copia. E sono autoreferenziali, nel senso che vengono corretti integralmente dal docente. Anche questo aspetto, per chi non conosce la valutazione autentica, può sembrare un assurdo. Ma, in fondo, non è assolutamente detto che la valutazione debba essere solo del docente. Per esempio, potrebbe essere partecipata. Potrebbe essere, ad esempio, dello studente e del docente. O degli studenti, sulla prova di un gruppo o di un singolo. Abbiamo, forse, così interiorizzato questo schema, che, probabilmente, per alcuni di noi, uscire da questo paradigma può sembrare persino buffo. La valutazione autentica, invece, si muove su altre direttive. Per esempio, tenta di basarsi il più possibile su compiti significativi e reali. In questo caso sono pressoché sinonimi. Significativi e reali, significativi, vale a dire, dotati di un senso che va fuori la prova. Naturalmente, anche una versione di greco è un compito significativo, ma è significativo tendenzialmente in sé. Riesce ad essere meno significativo fuori dal compito stesso. E reali, perché le prove a cui sottoponiamo i ragazzi che andranno sottoposti a valutazione autentica dovranno somigliare il più possibile ad aspetti che i ragazzi potranno trovare al di fuori della scuola. In questo senso, reali. Cioè che possono ripresentarsi nella vita al di fuori dell'ambito scuola. Diversamente dalla valutazione tradizionale, la valutazione autentica tenta di fare una rivoluzione. Cioè si parte dalle prestazioni e si arriva al curriculum. Mentre invece nella prova tradizionale si parte dal programma, l'ossessione di molti, e si arriva alla prova. Ti spiego un argomento e poi verifico quell'argomento. Parto dal, diciamo, dal curriculum, dall'argomento e poi verifico quello specifico argomento. Qui si può fare un ragionamento inverso. Decidiamo quali saranno le prestazioni importanti e in base a quelle prestazioni scegliamo degli argomenti piuttosto che altri sulla base delle indicazioni nazionali, naturalmente. La valutazione autentica tende, tende perché naturalmente non sempre riesce, a centrare il focus sulla competenza più che non sulla conoscenza e abilità. Questo tende a farlo anche la valutazione tradizionale, ma con più difficoltà. Proprio perché non lavora su compiti reali, su compiti autentici, e quindi è tendenzialmente più schiacciata verso conoscenze, nozioni e abilità. Le prove della valutazione autentica hanno queste caratteristiche, tendono a essere stabilite assieme agli alunni, non per forza dal docente in maniera indipendente da quelli che sono anche le richieste della classe. Non tendono a ripetersi, contrariamente a quelle che sono le classiche e classici esempi di prove di italiano. Pensiamo a un'analisi del test, a un saggio breve, a un tema, che sono sempre uguali per un quinquennio talvolta. Penso alle scuole superiori. Sono invece sempre diverse, questa è la sfida della valutazione autentica. Dal momento che l'obiettivo è simulare qualcosa che può essere extra aula, cioè può essere fuori dalla scuola, beh, allora le prove necessariamente devono essere qualcosa di diverso. Questo è molto faticoso da parte del docente, naturalmente. Ma col supporto, l'aiuto e il suggerimento attivo degli studenti può divenire un compito molto più stimolante e allo stesso tempo anche molto meno ripetitivo. Poi, sono anticipate. il docente che vuole misurarsi con la valutazione autentica non ha difficoltà a dire su cosa sarà un compito perché quello che ci interessa non è vedere quante nozioni sono entrate in quel cervello ma vedere cosa sa fare quel cervello con quelle nozioni, come le rimodella, le rimedia, le rimodellizza in contesti diversi da quelli in cui quelle nozioni sono nate. e naturalmente hanno tempi lunghi per esempio non si fanno sempre prove di un'ora due ore magari la prova è una consegna che deve essere sviluppata sotto forma di report di relazione per la quale si dà un mese di tempo e che i ragazzi svolgono per lo più da soli per lo più da solo in gruppo comunque a casa non sotto l'occhio vigile severo a volte del docente sono poi spesso prove di gruppo e questo è un aspetto centrale non sono valutate solo dal docente ma anche dallo studente quindi autovalutazione e valutazione anche dei pari quindi dei propri colleghi i propri compagni di classe naturalmente la valutazione autentica non è solo una filosofia così libera libera ha bisogno di indicatori molto precisi e per questo si serve spesso di rubric ora bisogna qui chiarire il termine diciamo nella letteratura del caso la parola rubric non è sinonimo di griglia talvolta però delle griglie che utilizziamo a scuola sono così ben fatte che possono effettivamente essere anche considerate rubric in questo caso io enfatizzerò le differenze tra le due definendo una griglia semplicemente una scala di valori cioè una tabella con dei numeri o qualche volta dei giudizi mentre invece la rubric è uno strumento ben più complesso ed è uno strumento formativo soprattutto non valutativo soltanto la griglia in sé per sé non aiuta lo studente si allega per esempio al compito quando lo si valuta ma lo studente difficilmente la userà quando elabora una prova è semplicemente un documento in cui si abbina una prestazione a un numero non è uno strumento in sé formativo la griglia ha di per sé una natura per lo più valutativa attribuisce vale a dire un giudizio o un numero a una prestazione a una singola analitica prestazione le rubriche invece vorrebbero avere una natura diversa più complessa e forse anche più utile sono uno strumento insieme valutativo e formativo descrivono naturalmente livelli assegnano valori molti di voi ritroveranno in questo delle griglie e in effetti ho precisato prima che in molti casi molti docenti utilizzano griglie che in realtà sono vere e proprie rubriche la rubriche questo è forse un aspetto interessante molto spesso viene anche compilata dall'alunno perché il docente prevede che alla fine di una determinata prova l'alunno compili la sua rubrica in base agli indicatori che la classe ha condiviso quindi in questo senso è uno strumento formativo e non solo valutativo o anche se vogliamo punitivo quali sono i componenti le componenti di una rubrica i tratti per esempio non so una prova di italiano di letteratura il contenuto la forma il rispetto dei tempi poi ci sono scale di valori che possono essere numeri giudizi o numeri e giudizi insieme i criteri questi naturalmente vengono soprattutto stabiliti all'inizio cioè le condizioni da soddisfare per raggiungere un valore nella scala dei valori e poi i descrittori cioè sono quegli aspetti che più che altro devono essere osservati nella compilazione della scala di valore le tipologie di rubric sono diciamo tre semplificando le cose una semplicemente numerica e in questo caso il rischio di finire nella griglia è piuttosto alto una verbale cioè qui ci sono dei giudizi magari più estesi meno semplificati rispetto a un semplice numero e numeriche e verbale che è forse quella più ampia allo stesso tempo vediamo come costruirla una buona regola è sempre prima di costruire questa tabella mostrare agli alunni dei lavori svolti in base ai livelli che sceglieremo se poniamo una griglia su cinque livelli sarebbe opportuno far vedere delle prove che si situano nel livello 1, 2, 3, 4, 5 poi bisogna essere il più possibile rigorosi nei tratti e nei criteri questo naturalmente anche nelle griglie questo naturalmente sempre in ogni cosa però in particolare nella rubrica proprio perché è uno strumento abbiamo detto anche formativo poi questo è un aspetto secondo me il più importante renderla aperta vale a dire la rubrica non è qualcosa come forse la griglia stessa non è qualcosa di fisso ma è qualcosa che potrebbe essere anche modificato in base alle richieste alle necessità agli errori per esempio partecipate condivisa perché forse il caso migliore è costruirla magari non da zero ma tararla costruirla con gli studenti sarebbe opportuno anche crearla come uno strumento di lavoro vale a dire presupporre che gli studenti al termine della loro prestazione compilino la loro rubrica attraverso io qui ho scritto l'esempio di una checklist che è un caso abbastanza rapido da fare per gli studenti e per il docente e poi e questo è l'aspetto forse più importante dal punto di vista della trasparenza dell'onestà intellettuale e usarla anche per il proprio lavoro di docente cioè sarebbe interessante che il nostro lavoro venisse magari valutato dagli studenti con la stessa rubrica con cui noi valutiamo loro ma allo stesso tempo noi potremmo valutare il nostro lavoro con quella rubrica in modo tale che sperimenteremmo l'uso di uno strumento valutativo e formativo anche sulla nostra specifica esperienza questa che vediamo è un esempio di rubrica qui ci sono i tratti contenuto questa è una rubrica che vuole una rubrica del professor Tessaro Tessaro un grande esperto di docimologia di Venezia di Cafoscari questa rubrica vuole valutare la qualità di una presentazione multimediale e per esempio c'è fra i tratti contenuto requisiti tecnici della presentazione esposizione orale conoscenza dei contenuti rispetto dei tempi qui vediamo la complessità di questo strumento ma vediamo anche che questo strumento vuole abbracciare una valutazione che sia autentica e che non sia solo il powerpoint materialmente consegnato e interessante anche il lessico che si adopera vedete non è un lessico punitivo guardate i livelli forse non si leggerà perfettamente ma il livello base è un livello esordiente non ha nulla di punitivo questo termine poi parliamo di un principiante che non è l'esordiente perché non è al suo esordio ma è al suo inizio che è un periodo più lungo poi un livello medio è un livello esperto questa è verbale numerica perché ci sono giudizi e anche numeri per esempio leggiamo qualcosa sul contenuto un livello esordiente la presentazione contiene solo poche essenziali informazioni non organiche poco attinenti alle richieste quella del principiante è una presentazione che contiene poche informazioni essenziali altre superfili ridondanti ma sostanzialmente attinenti alle richieste ecco qui la differenza quella media è invece una presentazione che ha informazioni essenziali derivate da più fonti e quella esperta contiene ampie e documentate informazioni poi vediamo che e qui si vede benissimo cosa sia la valutazione autentica il powerpoint non è solo quel file è anche l'esposizione orale in questo senso la valutazione autentica non mira a valutare il prodotto la performance analitica del oggetto didattico ma di tutto un processo per esempio ci possono essere dei ragazzi molto bravi nel comporre un powerpoint quindi che raggiungono un livello in questo caso esperto ma che sono poi in difficoltà nell'esposizione orale qui emerge una delle caratteristiche più interessanti è la valutazione autentica la valutazione autentica tenta anche di valutare i vari stili di apprendimento chiunque di noi sa che alcuni studenti messi di fronte a una prova non raggiungeranno mai l'eccellenza perché la loro intelligenza non si muove sulla base di quelle richieste potrebbero però raggiungere l'eccellenza se quella prova fosse concepita in modo diverso vediamo che quindi non è un problema di concetti di nozioni e di contenuti ma di come arriviamo dunque alle conclusioni vengono richiesti allora la valutazione autentica non è necessariamente intelligenza soppiantare del tutto quella tradizionale sarebbe già un grande passo in avanti per la docimologia della scuola italiana se riuscisse talora durante l'anno scolastico ad affiancare la valutazione tradizionale la valutazione autentica è un ottimo modo per conoscere anche meglio i nostri studenti per fare in modo che il successo formativo per loro sia più semplice da raggiungere perché più numerose sono le prove di valutazione a cui possiamo sottoporre e ripeto ancora gli studenti in determinate forme di prova potrebbero non dare mai il loro massimo perché magari la loro intelligenza si muove su canali diversi da quelli tendenzialmente analitici che sono poi al centro delle prove di verifica che si fanno specie nella scuola secondaria di secondo grado e alcune metodologie e in questo senso rientra la didattica 2.0 ma non necessariamente possono favorire la valutazione autentica penso per esempio ai casi di peer-to-peer l'apprendimento cooperativo digital storytelling o flipped classroom in questo senso ora vedremo un esempio concreto sperimentato in classe da me di quella che è una prova di valutazione autentica in cosa consiste si tratta di un reportage sul mondo del lavoro che alcuni studenti hanno in gruppo dovuto svolgere il reportage consisteva nello studiare una documentazione che veniva fornita e poi di scendere sul territorio e fare delle interviste o nel mondo delle aziende o nel mondo dell'università o nel mondo delle attività produttive del nostro territorio quindi l'obiettivo era anche oltre che conoscere il mondo del lavoro anche una forma di orientamento in uscita visto che era una classe quinta di una scuola superiore la prova richiedeva lo studio e il contesto delle interviste a degli attori che sono in questo ambito per esempio agenzie di collocamento o attività commerciali l'uso dei dati quindi dei documenti e poi la pubblicazione online in questo senso noi abbiamo adoperato tac.com per mostrare il lavoro e il lavoro è stato fatto in gruppo e per questo lavoro è stato dato circa un mese di tempo alla fine ora vedremo è stato valutato sulla base di quello che è stato un tentativo di valutazione autentica ora vediamo l'esempio ecco l'esempio di reportage giornalistico per il quale è stata utilizzata una valutazione autentica il sito in questione è tac tac.com e il lavoro consisteva nello studio del contesto e nelle interviste di attori che lavorano nel territorio sul tema del lavoro quindi agenzie formative titolo che hanno dato i ragazzi e giovani al lavoro nella nostra valtiberina difficoltà incertezze e speranze al giorno d'oggi qui vediamo un grafico quindi l'uso dei dati è stato soddisfatto da questa dall'uso di questi di questi documenti e poi sotto è presente una spiegazione in questo senso c'è un plus qualcosa in più i ragazzi hanno scelto anche google maps per localizzare dove hanno lavorato e dove hanno effettuato le interviste per quanto riguarda le interviste i ragazzi sono concentrati in una società di fornitura di lavoro temporaneo come vedete in questo senso c'è una valutazione autentica perché tutto ciò che hanno studiato sull'uso dei dati per esempio sul saggio breve poi è stato riversato in un'attività reale che è appunto stata questa qui c'è la trascrizione non stiamo a leggerla c'è una trascrizione di un'intervista che i ragazzi hanno anche caricato sotto forma di audio in ogni caso qui c'è la trascrizione ci sono delle domande vedete qui c'è una foto questa foto è reale vale a dire la foto dell'intervista poi qui c'è anche questo è un tasto vedete infatti l'indicazione del link dove i ragazzi hanno specificato il concetto di net molto un concetto molto noto tristemente noto in Italia vale a dire i giovani che non lavorano e non cercano lavoro e qui cliccando si aprirebbe un link che porta ad una pagina che spiega appunto cosa sia questo fenomeno qui vedete un'intervista di Youtube un'intervista caricata caricata su Youtube questa intervista si può tranquillamente integrare su su TAC ed è un'intervista che peraltro i ragazzi hanno curato anche molto bene dal punto di vista grafico dove si chiede cosa faccia questa agenzia formativa come si muova e quali sono le tendenze del mercato del lavoro nell'ambito del 2014-15 questo è un video caricato su Youtube naturalmente tutti quelli che vengono intervistati hanno poi lasciato la liberatoria per la pubblicazione dei dati qui c'è di nuovo la trascrizione di questa seconda intervista nel primo caso non c'era il video questa è un'altra intervista ancora questa è una realtà produttiva è un negozio un negozio sempre del nostro territorio qui vediamo ancora il trascritto dell'intervista ancora interviste e qui forse un aspetto tra i più interessanti doppia intervista a giovani laureandi come dire non solo chi è già nel mondo del lavoro ma anche chi si appresta ad andarci intervista come vedete presente su Youtube backstage perché ho chiesto ai ragazzi per rendere proprio autentico il lavoro anche delle foto del processo non soltanto del risultato ma anche del momento in cui sono visti quali sono state le difficoltà e qui è stato chiamato giustamente backstage e qui appunto vediamo i ragazzi all'opera nel cercare agenzie da intervistare ecco qua questo è uno degli aspetti più importanti è quello in cui i ragazzi sono rivelati più bravi cosa hanno imparato dall'esperienza ecco l'autovalutazione al di là della valutazione numerica in sé mi interessava fare in sì che i ragazzi si interrogassero su ciò che loro hanno appreso da questo esperimento strumentazione questo è un aspetto a cui tengo molto l'esattezza tecnica di un reportage quindi ho chiesto non solo quale strumento venisse usato ma quale marca quale ditta e qui vedete i ragazzi sono stati molto proprio molto precisi nel identificare la strumentazione poi sempre in tema di valutazione autentica i ragazzi hanno specificato quando si sono visti per quanto tempo su divisione del lavoro e il loro giudizio questo è il mio giudizio che è particolarmente apprezzabile e questa come vedete ha una rubrica molto semplice qui è presente la sintesi una specie di sinossi della rubrica non tutta la rubrica gli indicatori sono correttezza formale originalità del taglio accuratezza del materiale multimediale esattezza della documentazione rispetto delle consegne è una rubrica fatta su livelli da 1 a 5 il totale 15 ventesimi che ha prodotto una valutazione di 7 e mezzo che peraltro viene data al gruppo naturalmente qui il docente non distingue i vari valori dei singoli perché è un processo è un lavoro di gruppo e come tale è stato valutato grazie a tutti